Il 2014 è stato un anno caratterizzato accanto all'attività tradizionale istituzionale della Polizia Municipale da interventi abbastanza significativi in batteria di viabilità collegati ai lavori di teleriscaldamento. Inoltre abbiamo avuto nei primi mesi del 2014, abbiamo dovuto affrontare meglio il problema del passaggio di categoria della squadra di calcio ACI-BRA. Passato di categoria abbiamo dovuto predisporre dei dispositivi di sicurezza più incisivi in osseguo alla normativa della sicurezza sugli stadi. E inoltre c'è stato un momento molto limitato nel tempo ma molto intenso dal punto di vista della disciplina della circolazione come passaggio del leggero d'Italia. Inoltre il 2014 è stato un anno caratterizzato da una notevole diminuzione dell'accertamento delle violazioni legate ai divieti di sosta e a un aumento invece degli accertamenti legati alle violazioni cosiddette dinamiche che più incidono sulla sicurezza stradale mi riferisco al superamento dei limiti di velocità, alla guida sotto l'effetto di sostanze stupecuacenti o in stato di deprenza. Grazie. 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 Grazie.